Eeeeeeeeeeeeeee Musica 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 Raga ma dove cacchio è la sedia? E' scappata la sedia! Musica E' fuggita! Musica Musica Ma dove cazzo te lo hai? Musica Ma chi ti muovi? Vuoi muore? Ma io non lo so va! Ti ho detto mille volte che non dovete andare quando io non ci sono! Musica Stai qua e buono! So ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Prima di cominciare come sempre tempestate di like questo video e arriviamo a 10.000 like Quindi come al solito vi do 3 secondi di tempo per mettere like Vai! Musica Bene! Ora che avete messo like a questo video Oggi andremmo a Stai ferma? Vuoi stare ferma per cortesia? Già mi hai fatto incazzare oggi eh? Stai ferma! Vi-se-o-nare! Ti devi stare ferma! Un nuovissimo video ASMR Dove mangiano cose colorate In questo caso Mangio solo cose purple Ovvero mangio solo cose viola Va bene raga Andiamo a visionare questo mangiare viola Tutto purple è oggi Quelli sono cristalli viola? Un attimo aspetta è ghiaccio bianco E ghiaccio viola? Ok ha fatto una bevanda purple Due ghiaccioli che poi non sono ghiaccioli di gelatina viola Una spazzola viola e bianca Più rosa che viola ma mi spiegate perché questa è fissata con le spazzole Perché? Raga in ogni video c'è sempre qualche spazzola di colore diverso in base al colore del video Vi lascio il link in descrizione di tutta la playlist Dei biscotti purple con il centro white Quindi con il centro bianco Ovviamente non potevano mancare le palle di gelatina viola Questo non so cos'è Sembrano dei pinguini deformati purple Hi guys Ciao ciao La solita presentazione Carina caruccia diciamo La solita presentazione così un po' sbrex Per presentare tutto quello che di viola ovvero purple c'è nel tavolo E da pazzi veramente da pazzi questa cosa Cioè lei mangia solo cose dolci Cose salate non esiste Lei solamente cose dolci e poi mi meraviglio del fisico perché comunque non è diciamo in sovrappeso È perfettamente snella come c***o fa non lo so Tra l'altro lei è vestita di rosa e non di purple ok? Strano perché di solito si veste dello stesso colore in cui il cibo che deve ingulgitare in quel video fa Come c***o parlo io ma veramente mi si è sbavolato il cervello a me Me lo immagino che è buonissimo quel biscotto purple Mannaggia la miseria io soffro quando vedo certe cose credimi Il mio stomaco si lamenta e sono le nove di sera e guardo lei che mangia e io soffro Si sta bevendo quella bevanda E chissà che sapore abbia Però sembra che è molto gassata perché fa le bollicine Slime tricker Purple ok di colore viola No dai no aspetta no questa non si può No un attimo aspetta aspetta un attimo aspetta aspetta un attimo Questo non lo puoi fare Mi censura nel video sta cosa tu non la puoi fare no Mi rifiuto no capisce capisce Praticamente io lo sto guardando tu non ti devi ingelosire Non ti devi ingelosire io sto guardando è solamente una parodia reaction questa Cioè lei prende quella cosa la ok E se la mette nella lingua non si può fare sta cosa no Io non lo faccio perché mi piace lo faccio per lavoro ok Fidati che non ci sento gusto né piacere e non mi eccito fidati non mi eccito Questa è una questione di lavoro e non per secondi fini ok sappiatelo Posso rifiutare di guardare o devo guardarlo per forza sta cosa C'è una tresciata pazzesca Non lo so si sta spalmando il burro cacao nella lingua o qualcos'altro non so cosa sia quella cosa Raga l'avete presente la colla quella lì che fai così esce e praticamente devi incollare le carte che ti danno a scuola ok Sembra quella colla lì che sta spalmando nella lingua Questo non so cosa sia è una pigna una pigna viola Ma intelligenza sovrumana lo vedi che è ricolma di liquido se gli dai un morso è normale che scoppia È possibile che ogni volta che devi fare una smr sporchi tutto Cioè riduci la postazione una vera p***a praticamente Sempre qualcosa deve succedere raga e ogni volta che fa una smr O gli cade la gelatina o si imbratta tutta o gli scoppiano gli oggetti qualcosa sempre succede Com'è che non si spacca i denti io me lo domando sempre ogni volta E vai abbiamo fatto 30 facciamo 31 fai cadere anche le altre cose nel frattempo che ci sei Ancora il tavolo è pulito non è giusto che rimanga pulito sporcalo un po' no? Questa qui è più difficile delle altre Ma quelle da dove le hai uscite? Nella presentazione iniziale non c'erano ste cose Raga stanno friggendo Sono quelle caramelle che sfrigolano sulla lingua E ovviamente mettendole sulla gelatina sfrigola anche la gelatina Gli piace raga gli piace si vede che gli piace Cioè questa qua la fabbrica la gelatina secondo me eh Ha anche la fabbrica delle spazzole eh comunque Perché in un video si in un video no in un video si 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 C'è sempre la spazzola colorata che mangia eh Che cacchio è quella profumo? Pensavo che si mangiasse il profumo Adesso dei marshmallow viola a forma di pinguini deformi Si sta ascoltando la musica? No raga veramente si sta ascoltando la musica perché altrimenti non me lo spiego il fatto che fa così Saranno buonissimi quei marshmallow Purple Raga sbaglio o si è messa le lentine viola anche lei eh Per fare il video si è messa le lentine viola Cioè ti rendi conto si Chissà che gusto acqua e la bevanda viola sono curiosissimo E sfrigola E sfrigolin sfrigolau Sta friggendo Sta friggendo la gelatina Ma magari se mangi in un modo più adeguato che dici dai? Ci sono dei bambini presenti Non succhiare la gelatina Raga a sto punto voi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di lei che mangia in codesto modo Perché stai esagerando in questo video eh stai esagerando Tanto il bollino giallo me lo mettono a me no? No a lei a me me lo mettono Mi raccomando raga tempestate di like questo video Perché ne vale davvero la pena soprattutto vedere lei mangiare in questo modo Iscrivetevi a questo canale youtube e attivate la campanellina Ok quella è la spazzola vera Quell'altra è la spazzola che lei andrà ad ingurgitare Non sbagliare mi raccomando prendi quella lì commestibile Io vorrei sapere quegli aculei come sono fatti Come cacchio sono fatti quegli aculei di che sostanza sono fatti Ma sarà buona però perché Ma ogni volta ti deve cadere qualcosa ogni volta A me cascano le palle per terra ogni volta Gli cadono le cose dalle mani e dal tavolo ogni volta combini un macello Mi dici per favore di che sostanza sono fatti quegli aculei Sono curio veramente sembrano di legno E avvicina avvicina Sono spaghetti e pasta Cioè sono spaghetti tagliati e pasta cruda Quella è pasta cruda Dopo questa io me ne va E pasta cruda No vabbè no Ciao 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 POP UP THE VOLUME 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 CZE Grazie a tutti.